Il Ministro vi accusa di essere dei professionisti della protesta, che non capite cos'è la riforma e non va contentata del piano di assunzioni, degli investimenti che fanno? Il Ministro dice che noi siamo in isciopero e non abbiamo letto la 107, sono 35 anni che insegno, di riforme ne ho lette tante, ho letto anche la 107, questa è la peggiore, la peggiore perché l'è della democrazia, perché l'è del diritto all'istruzione dei ragazzi, alla formazione dei ragazzi. Perché la scuola è sempre nel mirino? Perché al governo fa paura. Ogni riforma ha un passo indietro? Sì, è una regressione della scuola, infatti come vedete nel mio cartello cito la nascita dell'autonomia scolastica fino all'ultima riforma, quella Renzi, che conclude questo disegno. Perché la scuola è sempre nel mirino? Perché la scuola è sempre nel mirino, perché qualcuno la vuole sempre cambiare, perché? Perché noi, forse era rimasto l'unico baluardo democratico in questo paese e soprattutto è un posto dove cambia, è un posto che ancora si possono cambiare le teste dei ragazzi, dei giovani, in teste pensanti insomma. E forse era l'unico posto dove la mafia non poteva arrivare, c'era una trasparenza, le graduatorie, un posto trasparente dove può essere assunti o fare supplenze. E adesso viene meno anche questo. Oggi sciopero degli insegnanti e anche gli studenti in piazza per dire cosa? Ma il governo ci sta raccontando che stanno iniziando a dare i soldi alla scuola, in realtà hanno portato in Senato una legge di stabilità che in tre anni taglia altri 660 milioni alla scuola e all'università, ci stanno prendendo in giro e regalano nel frattempo altri 27 milioni alle scuole private. Continuano a dirci che i soldi non ci sono, in realtà ci sono 2 miliardi e mezzo sempre stanziati nella legge di stabilità per comprare le navi da guerra, restano 13 miliardi stanziati per gli F-35, quest'anno l'Italia ha speso 70 miliardi soltanto per pagare gli interessi sul debito pubblico e ne spende altri 34 milioni per il quartier generale della Nato a Bruxelles, quindi non vengano a raccontarci che i soldi per la scuola non ci sono, è una questione di scelte. Noi oggi chiediamo il ritiro immediato dei tagli e vogliamo che sia lo Stato che deve tornare a coprire i costi dell'istruzione. E i soldi, gli unici soldi che abbiamo visto sono le lemosine 500 euro per la formazione ma i contratti sono fermi da anni e anni e noi non vogliamo le lemosine ma vogliamo un contratto vero, il problema è che Renzi alla Confindustria dei Poteri Forti ha promesso dei contratti e non se ne parlerà più. Tenete conto che alla fine degli anni 80, i primi anni 90, lo Stato italiano investiva nella scuola, nell'istruzione tutta, dalle materne fino all'università, 13 lire, 13,2 su 100, cioè su una spesa complessiva di 100 lire 13 andavano, 13,2 alla scuola. Adesso su 100 euro spese dallo Stato 8,2, 8,3 vanno all'istruzione. Quindi in 25 anni una perdita è intorno al 30% di investimento e non c'è nessuna inversione di tendenze.